Ciao, oggi facciamo spaghettone con alici, tirocchetto di montagna, pinoli, cipolla, acciughe salate e pangrattato. Adesso andiamo a salare l'acqua e buttiamo fino a che. Apriamo e rifacciamo andare per 5 minuti. Settiamo la padella, mettiamo l'olio e buttiamo la cipolla. Facciamo soffriggia per 5 minuti e poi aggiungiamo le alici. Aggiungiamo le alici, i pinoli e li facciamo andare per circa 10 minuti. Adesso andiamo a scendere i pinolchetti, che sono quasi colti. Adesso andiamo a tagliare tutti. Adesso chiudiamo i pinolchetti. dobbiamo aggiungere le alici. Un po' di zapperano. Dopo 5 minuti aggiungiamo le alici. Passiamo ad aggiungere le alici. Fiamma moderata, 10 minuti e spegniamo. La pasta è altissima, togliamo un po' di acqua di cottura. Pela, togliamo le fasche, andiamo a portare la mantecara, un goccino d'olio. Adesso andiamo a impiazzare. Prendiamo il fondimento. Prendiamo il fondimento. Il piatto è pronto, in tavolo. Prendiamo il fondimento.